Grazie a tutti. Come sappiamo il 25 novembre è la giornata contro la violenza nei confronti delle donne, ci sono tante iniziative di sensibilizzazione, purtroppo però sembra che queste iniziative in qualche modo non riescano a ridurre la percentuale degli episodi di violenza nei confronti delle donne, ma c'è anche da dire soprattutto che forse queste iniziative di sensibilizzazione sensibilizzano le vittime stesse, perché probabilmente ci sono più casi perché ci sono più denunce, si può dire? Sì, sensibilizzano e aiutano a prendere coscienza, perché noi in realtà il 25 novembre invitiamo sempre tutte le donne a partecipare, ma in realtà dovrebbero partecipare i maschi, gli uomini, ad esempio questa campagna internazionale a cui Verona aderisce del fiocco bianco è fatta proprio per gli uomini che dovrebbero mettersi questo fiocchetto bianco alla giacca, al bavero e quindi dire noi siamo contro la violenza. A Bologna è nato un gruppo molto attivo a riguardo e speriamo che si dirami anche in tutta Italia, però in realtà è importante sensibilizzare perché ci sono tantissime donne che ancora oggi non denunciano la violenza, perché i dati ci confermano che la violenza è soprattutto domestica, il 70% della violenza sulla donna dei femminicidi avviene dentro le mura di casa, ce lo dice il telefono rosa e i dati sono sempre più sconcertanti. Tu sei qui perché hai parlato del comune di Verona, perché io sono entrata subito a gamba tesa nell'essenza del tema, ma è un po' la mia caratteristica, non salto titoli e sottotitoli per arrivare al nocciolo della questione, per presentare Madri contro la violenza, che anche l'anno scorso se non sbaglio a Verona ci fu questa iniziativa, non è a caso una giornata che tu hai strutturato, ideato, progettato, e non a caso si chiama Madri contro la violenza, proprio tu dicevi di non essere sensibilizzati gli uomini e gli uomini sono comunque figli di donne, e quindi il primo passo è quello delle madri? Sì, questo Madri ha origini lontane, noi tre anni fa, e quando dico di noi, io sono ovviamente una persona singola che si occupa soprattutto di progettazione culturale e non solo, mi sono unita con la commissione pari opportunità della provincia di Verona, presiduta Antonia Pavesi, che è anche delegata alla cultura del comune di Verona, e in questa manifestazione il 25 novembre siamo strettamente legati al comune, all'assessorato delle pari opportunità, e sempre con noi il telefono rosa, quindi devo dire che siamo felici, perché si parla sempre di questa rete, che spesso in tanti progetti non si riesce a fare, invece per fortuna il 25 novembre la rete c'è, è effettiva ed è forte, perché veramente stiamo lavorando come volontariato in tanti e tantissimo per cercare di urlare al mondo questo basta contro la violenza, questo basta proprio, questo stop al femminicidio. Tu dici che il 25 novembre siete riusciti a mettere insieme la rete, la rete che parteciperà a questa giornata di iniziative, che poi insomma andremo a illustrare nel programma, un programma che inizia alle 16 al Teatro Camploi di Verona e si conclude in serata. Ma questa rete funziona al di là del 25 novembre a Verona, cioè come lavorate, visto questa passione per questo tema che poi coinvolge tutta la società? Infatti in realtà ho spaziato, non ho risposto alla tua domanda precedente, e forse è il caso di fare un salto indietro. Noi tre anni fa abbiamo realizzato questo progetto, ma dell'origine del coraggio, convinte che parlare delle donne in modo diverso, in modo completo, a tutto tondo, fosse importante, soprattutto in questo momento storico. Quindi parlare sì della violenza, ma non solo, anche far vedere l'anima forte e coraggiosa delle donne, perché è fondamentale. Io devo dire che tutto quello che faccio, anche quando parlo di violenza, lo faccio con uno sguardo di speranze e di ottimismo. Secondo me è fondamentale, la gente ha tanto bisogno di questo, perché finché noi facciamo vedere queste donne ammazzate, uccise, è importante, ma ci sono sempre state, io sono convinta di questo, è che adesso i tigini parlano, forse fin troppo. E questo non fa altro che dilagare la violenza. Cosa significa? Parlarne troppo potrebbe spingere all'emulazione? Potrebbe in qualche modo, perché non parlarne magari non si trova il coraggio di denunciare. Qual è il giusto mezzo? Forse bisogna parlarne in un modo molto culato. Io penso che, anche io sono una donna di informazione, quindi ritengo che sia giusto non omettere le notizie e darle. Però, primo, sono sempre di quella categoria che vorrebbe anche sentire delle notizie belle sui giornali, vorrebbe la famosa pagina di belle notizie, non dico una volta al giorno, ma almeno una volta alla settimana. Secondo me sarebbe importante. Ribadisco, soprattutto in questo momento in cui tutti abbiamo poca speranza e poco ottimismo nel futuro. Trovi, adesso facciamo una digressione sulla nostra professione, che poi è una digressione sulla comunicazione, poi la comunicazione in qualche modo veicola anche, può condizionare i comportamenti umani, che se ne dica o meno. Secondo te non c'è una inversione di tendenza? Qualche buona notizia? non sta immergendo. Questo gusto del macabro e del mostro in prima pagina, dell'orrore che si consuma dalle parenti domestiche non è passato un po' in secondo piano e si guarda più alla storia della vittima che a esaminare il corpo martoriato. Sì, qualcosa sta cambiando, sono anch'io d'accordo. La notizia c'è ed è giusto che ci sia, però forse perché anche i giornalisti, anche l'informazione sente che la gente è stanca e sente che la gente ha bisogno di altro, ha bisogno dell'informazione ma in un altro modo sta cambiando. Sono d'accordo con te perché sia sui giornali che nelle immagini vediamo che qualcosa sta evolvendo. Però ci sono anche delle trasmissioni, parallelamente, che vanno a sviscerare in maniera anche morbosa alcuni magari delitti irrisolti. Quanto, visto che un delitto consumato all'interno della parete domestica è un reato di cui bisogna informare all'opinione pubblica, però resta anche un dato privato, un dato familiare. Come andrebbe trattata la notizia rispettando la vittima, soprattutto i familiari della vittima che molto spesso sono dei minori. Quanta morbosità invece c'è nel dettaglio e quanto invece bisognerebbe affrontare un episodio di questo genere proprio per sviluppare una coscienza di rispetto, parlo proprio nel caso specifico della violenza verso le donne? Beh, sta nascendo tanta informazione su questa tematica. C'è un lavoro molto importante che stanno facendo le giornalisti del Corriere della Sera con la 24esima ora, che è un blog nato appositamente su questa tematica e devo dire che loro hanno fatto anche un libro che ha girato l'Italia, che è stato venduto molto e questo ci fa piacere perché vuol dire hanno raccolto testimonianze di donne che ce l'hanno fatta, di donne che sono riuscite a uscire dalla violenza e insomma è importante trattarlo in modo attento, in modo oculato e c'è una nuova legge che è passata, che è stata anche molto contestata perché dicono che sia troppo poco forte, troppo poco incisiva, ci siano pochi stanziamenti rispetto a quelli che dovrebbero essere però io sono sempre, dico dal niente, è bene che sia nata questa legge, c'è una legge che tutela anche dallo stalking che allontana... L'arresto immediato adesso nel caso di violenza... Eh sì, c'è l'arresto immediato, allontana la persona che fa stalking o comunque che fa violenza dalla vittima di questa violenza insomma stiamo cercando secondo me nuove strade e ci sono tantissimi centri, tantissime case in città italiane centri, a Verona ne abbiamo uno molto molto... che funziona molto bene, molto buono che è il Centro Petra proprio... ma parliamo anche del Telefono Rosa che è da tantissimi anni che fa questa campagna di tutela nei confronti delle donne e insomma stanno nascendo le strutture e da quello che mi risulta le donne si stanno rivolgendo di più a queste strutture perché veramente noi non abbiamo secondo me la consapevolezza di quanto è diffusa questa violenza domestica è diffusissima, è che spesso le donne si abituano, ahimè, a subire questa violenza non solo hanno paura ma si abituano a questo linguaggio violento dei propri cari Visto che tu sei l'ideatrice culturale di questa giornata Madre contro la violenza, Madre all'origine del coraggio ovviamente quando uno arriva ad una sintesi con una giornata non è che si limita a fare un'organizzazione di persone ma attraversa il tema che affronta, quindi tu l'hai sicuramente attraversato proprio con l'esperienza Madre all'origine del coraggio tu dicevi che la donna si abitua, avrai anche incontrato molte donne che hanno subito violenza cioè io vorrei cercare di capire che è un po' sempre l'intendimento che ho quando intervisto ma vedo anche dai protagonisti di questa giornata perché ci si abitua? Alla fine poi il popolo delle donne anche numericamente è esattamente come il popolo degli uomini perché si accetta la sopraffazione? Oggi magari ci sono anche più strumenti di una volta le donne che subiscono violenza sono donne indipendenti economicamente perché c'è ancora questo subire? Che sembra un po' paradossale Io penso che siano molto dei retaggi culturali dei retaggi che derivano dalla nostra educazione ahimè anche cattolica perché purtroppo c'è anche questo questo subire cioè la religione non è questo spesso noi siamo educati a subire diventiamo vittime quasi per questo senso del peccato che viene perché ci viene inculcato dai genitori anche di stare in silenzio spesso di subire e questo colpevolizzare ci sentiamo colpevoli ma colpevoli di cosa? perché faccio fatica a capire il famoso discorso che ancora oggi vi assicuro è terribile ma viene fuori io è da tre anni che noi facciamo questa giornata contro la violenza quando ancora il 25 novembre era nel mondo perché è una giornata mondiale ma a Verona forse noi siamo stati i primi a farlo e non era così diffuso in Italia e io mi ricordo che più di una volta in questi tre anni quando vado alle presentazioni di libri e alle giornate in giro per l'Italia appunto che parlano di questa tematica spessissimo delle persone ma anche donne e dicono ah però lei aveva la minigonna ah però queste ragazze che vanno a scuola con l'ombelico scoperto siamo ancora fermi a questo questa è la cosa terribile che alla fine le donne colpevolizzano le donne quanto visto che appunto il tuo progetto si chiama Madri all'origine del coraggio perché si torna sempre su questo punto anche i maschi nascono da una donna e sono educati la maggior parte da una donna come può una madre a essere uno strumento perché questo rettaggio culturale venga smontato, annientato che ci sia veramente una parità di genere bellissima questa domanda che è una parità di genere non nel senso che uomini e donne devono fare le stesse cose perché abbiamo una fisiologia diversa ma un rispetto della diversità questa è per me la parità di genere infatti è una domanda importantissima perché noi siamo convinti ed è in questa direzione che stanno andando i progetti un po' in tutta Italia che la violenza di violenza si debba parlare fin dalla scuola ma fin dai giovanissimi neanche le a mio avviso anche proprio non dico le scuole elementari ma le scuole medie perché è un problema che viene da lontano è un problema che nasce spesso in famiglia non solo ma spesso ed è un problema educativo e culturale la famosa parola cultura che implica anche l'educazione e che noi stiamo annientando in questo paese che è la cosa più terribile che possiamo fare annientare la cultura perché stiamo facendo questo perché cultura non è solo mostra, teatro ma cultura è proprio un valore è il nostro valore come esseri umani e quindi è dalle scuole che deve partire questa operazione sensibilizzazione per me è cultura la capacità di rispettare il prossimo infatti è rispetto è rispetto e questa parola rispetto ultimamente sta venendo tanto fuori quando si parla di violenza ma non solo anche di amore anche di amore perché tutto può finire ci possono essere situazioni di dolore ma il rispetto non deve mai venire meno quindi la cosa importante che stiamo facendo a Verona è che fa anche questo progetto che voglio ci tengo a precisare che è un progetto che poi è inserito anche in un progetto più ampio che due o tre giorni fatto dal comune è proprio che stanno nascendo questi progetti di sensibilizzazione a questa tematica nelle scuole cioè ci sono dei gruppi di lavoro ovviamente formati appositamente formati con psicologi con formatori con educatori che vanno nelle scuole ed è lì che bisogna partire è da lì come reagiscono i ragazzini e le ragazzine e le ragazzine hanno coscienza di questa parità di genere e i ragazzini hanno il rispetto oppure in qualche modo riproducono perché poi la violenza tu prima dicevi la maggior parte delle violenze contro le donne si consumano all'interno delle mura domestiche però la violenza nei confronti delle donne non sempre è all'interno di un rapporto di coppia perché ci sono anche padri che picchiano le figlie c'è anche una violenza psicologica un mobbing che può essere esercitato anche nel posto di lavoro cioè c'è sempre questa supremazia parlo nei casi di violenza dell'uomo nella donna che poi sfocia nell'atto eclatante purtroppo è diffusissima è un problema materno ma anche un problema paterno quando parliamo di genitori e poi spesso quando c'è un linguaggio un linguaggio proprio violento tra i due coniugi cioè io dico sempre che la violenza non è noi parliamo di femminicidio che è l'ultimo atto di questa violenza l'atto più tragico più violento cioè drammatico però la violenza è anche verbale noi non ci rendiamo conto ma dalla violenza verbale spesso scattano delle dinamiche pazzesche delle dei comportamenti violenti ma questa violenza verbale è solo da parte dell'essere maschile o c'è anche un imbarbarimento della donna che in qualche modo si innesca un meccanismo non so se di difesa o meno perché poi ci sono anche dei casi dove l'uomo che è vittima perché non bisogna anche sono molto più più rari però ci sono quindi è un'involuzione proprio anche dell'educazione sentimentale del rapporto di coppia eppure in un momento in cui dovremmo essere tutti pronti a vivere le separazioni gli abbandoni perché fanno parte maggiormente della quotidianità rispetto che ne so ai nostri genitori e ai nostri nonni io penso che ci sia questo fenomeno come dicevo prima c'è sempre stato però io penso che in questo momento ci sia scoppiato anche a causa del momento che stiamo vivendo di maggior povertà di maggior difficoltà non è una scusa ma è ovvio che siamo tutti peggio siamo tutti molto più preoccupati perdiamo il lavoro non sappiamo come mantenere i nostri figli non diamo un futuro ai figli cioè tutto questo e l'aggressività crea io non sono una psicologa non mi permetto no 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 io posso parlare solo perché le frequentazioni ovviamente indagando questo mondo femminile ovviamente partecipo sento ascolto vado a convegni però io sono convinta che in questo momento storico il problema vada assolutamente preso e affrontato ma subito e anche in modo molto potente perché perché in questo momento è grave cioè il momento è sempre più grave quindi questa incertezza è sempre più all'ordine del giorno questa incertezza è frutto anche secondo me si scatena queste paure questi pericoli il fatto che non si può ci si separi sempre di meno sentiamo che molti coniugi vivono sotto lo stesso tetto separati in casa perché non possono permettersi una seconda casa perché uno dei due non può uscire perché non possono mantenere cioè ci sono delle situazioni veramente che poi provocano tensione tutto questo in un momento di grande povertà perché parliamoci chiaro stiamo vivendo una discesa forse anche rispetto a come eravamo abituati di tenore economico elevatissimo e quindi ovvio che in questo momento secondo me tutto questo sta anche perché se comunque io faccio sempre questo esempio se viviamo in un villaggio con una capanna la crisi neanche la senti ma se sei costretto puoi vivere in una situazione strutturata non è che puoi improvvisamente andare in un villaggio con una capanna e spendere meno perché uno può ridurre le spese di cibo e di vestiti ma tutto il resto di voci spesa è difficile da ridurla a meno che non so ti stacchi l'appartamento dal condominio adesso parlo in maniera parlo soprattutto è difficile da ridurre per gli adulti pensiamo anche per i ragazzi cambiare tenore di vita per i ragazzi nella fase adolescenziale cioè non è facile noi adulti magari possiamo riuscirci perché ovviamente speriamo di avere un po' di maturità per capire che ci sono momenti e momenti e non sempre possiamo permetterci certe cose ma i ragazzi un certo tipo di educazione che improvvisamente è costretta un attimo a quanto le maglie troppo larghe lasciate in tempi di i famosi no io penso che questo sia un tempo dove dobbiamo veramente dire tanti più no di quelli che abbiamo detto fino ad oggi torniamo sulla questione del no subito dopo la pubblicità tra pochissima grazie siamo tornati in studio con noi a parlare di madri contro la violenza Maria Teresa Ferrari ideatrice culturale di questa iniziativa che terrà banco il 25 novembre 2013 sapete che è la giornata internazionale contro la violenza nei confronti delle donne a Verona una sensibilità che forse è partita un po' prima diciamo una comunicazione di sensibilità partita un po' prima con questo progetto nel 2011 proprio ideato da madri all'origine da Maria Teresa Ferrari che è anche una giornalista stavamo sviscerando un po' che cosa comporta questa violenza nonostante se ne parli molto nonostante se tutti d'accordo tutti condannino questi atteggiamenti che poi nel peggiore dei casi purtroppo si concludono nell'assassinio delle donne ma che hanno tutta una gradazione di violenza che poi insomma crea dei danni e non pochi prima di andare in pubblicità si diceva l'incapacità di aver detto dei no in un momento magari florido può sviluppare delle reazioni anche negli adolescenti quanto all'interno di una relazione uomo-donna il fatto di dire dei no il fatto che una donna osi dire dei no diventa invece l'arma per cui lei si segna un percorso di violenza quanto l'uomo non è disposto alcuni uomini perché poi è bene non fare di tutto un arbo-on-fascio non accettano i no quanto bisognerebbe invece educarli a accettare i no infatti anche questo è un problema che viene da lontano da un'educazione genitoriale quindi familiare io leggendo questi libri questi racconti di donne vittime di violenza noti sempre che quando la donna cerca di allontanarsi da questa violenza dicendo dei no e quindi combattendo la violenza e qui subentra il supporto della struttura inizia il pericolo perché l'uomo non accetta il no l'uomo l'uomo abituato ad avere una donna sottomessa non accetta la sua tra virgolette ribellione per la sua salvezza e quindi è lì che veramente notiamo quanto è necessario ed è fondamentale rivolgersi a questi centri ce ne sono veramente in tutto il territorio ma anche solo chiamando il telefono rosa facendo una telefonata se uno ha paura o di esporsi troppo e devo dire che siamo felici perché notiamo che sempre più donne si stanno rivolgendo e spesso viene da dire con questa ovviamente presenza di tanti estacomunitari è aumentata è vero c'è molto anche nelle situazioni di estacomunitari ma non solo ribadisco tantissime sono situazioni di violenza tra le molte domestiche ma tra famiglie anche agiate cioè professionisti non è che stiamo parlando di famiglie meno agiate con più problemi ma parliamo di tutti i livelli sociali questa violenza senza nessuna esclusione più perché spesso è anche la violenza quella più aggressiva quella letale nasce da una considerazione della donna come oggetto sessuale oppure della considerazione della donna come oggetto proprio affettivo secondo me non c'è molta differenziazione quando uno è carnefice di tutto questo perché nel momento in cui tu sei un oggetto sessuale diventi anche un oggetto affettivo cioè è un tuo possesso c'è sempre questo concetto di possessività la donna è un mio possesso e quindi in un certo sessuale faccio quello che voglio come se l'emancipazione femminile dovesse pagare lo scotto in alcuni casi della violenza eh ma questo è il problema il problema di tante battaglie quello che diciamo oggi ad esempio della nostra generazione proprio della mia in particolare che dove in cui gli uomini si trovano assolutamente disarmati e spesso non sanno come comportarsi con noi donne che abbiamo una nostra indipendenza e che abbiamo una grande forza perché ammettiamolo quando io parlo di madre l'origine del coraggio è perché io sono assolutamente convinta che noi donne abbiamo una grandissima energia un grandissimo coraggio che non è neancora riconosciuto che non ci viene riconosciuto perché fa paura perché fa paura ma fa paura lo vediamo dai vertici dal potere politico fa paura in tutte le le situazioni vediamo dei paesi dove la donna grazie a Dio ci sono dei paesi dove la donna ha molto più potere che nella nostra amata Italia e vediamo come la donna è riuscita a fare delle grandissime cose cioè chi dà spazio alla donna ne ha solo da guadagnare ma la donna è anche meno violenta la donna vuole per forza fisica che comunque è meno violenta sa come fare rete sa come comportarsi ha più intuizione ma io non è che voglia difendere io cioè io credo che una donna non possiamo rifare tutto un'erba fascia ecco infatti quindi anche gli uomini sono delle persone però io sono una donna una professionista che lavora da 30 anni in campi difficili come sono quelli della comunicazione pubblica relazioni dell'arte e siamo spesso all'anno zero cioè facciamo una fatica per imporci per andare avanti perché spesso in molte città in molti ruoli le donne non sono non è accettato chi eccelle ma soprattutto quando è donna una donna c'è ancora questo retaggio è una fatica tantissimo eppure ci sono tanti uomini che riconoscono il valore perché appena lo dimostra viene assolutamente annientata però io adesso vorrei spezzare una lancia proprio per quegli uomini che comunque valorizzano le donne che possono essere veramente il vero strumento per questa rivoluzione culturale quanti sono? sono davvero così pochi? questi sono delle mosche bianche vengono considerate dagli altri uomini come dei deboli sempre attraverso nell'organizzare questi eventi nell'occuparti da un punto di vista anche giornalistico come progettazione culturale perché poi alla fine dovendo fare un piano di lavoro approfondendo un tema uno lo sviscera di dentro noi giornalisti siamo un po' come gli ostetri che usiamo dire alle volte almeno dovremmo essere così ricercare la verità per onestà intellettuale io sono molto critica io penso che ma forse anche una mia esperienza personale e devo dire che sono a contatto con tantissime realtà sempre quindi io penso che l'uomo stimi moltissimo la donna di oggi perché la stima l'ammira ma poi l'uomo fa fatica a rapportarsi con lei su tutti i campi dal campo familiare sentimentale a quello lavorativo si fa fatica ma perché anche qui torniamo al metaggio nostro culturale educativo e quanto le donne quelle un po' più deboli quelle che non hanno voglia di rivendicare la propria emancipazione perché alla fine può diventare più comodo sottostare quanto sono un deterrente in questo momento c'è una regressione anche nel mondo femminile di quella visione come la sensazione che certe battaglie fate le nostre mamme certe battaglie fatte dalle ragazze della nostra generazione dove l'indipendenza economica era fondamentale prima di tutto il resto oggi si abdica a questa libertà in nome di un vivere più tranquillo ci sono da dipendenti chiamiamo così ci sono tantissime donne in gamba io lo noto che poi dopo nel proprio privato è come se alzassevo le mani e dicessero sono qui e questo perché ti si è fatica e io ogni tanto rimango sconvolta perché sono donne in gambissima nel loro ambiente professionale sono donne energiche però poi può di tenersi vicino un uomo può di non stare da sole ancora oggi accettano delle situazioni che sono assolutamente brutte diciamo questa parola brutte nel brutto c'è tanto una sorta di sindrome di Stendhal sì e io un giorno un'amica parlando di queste situazioni mi ha detto beh ma da qualche parte queste situazioni di violenza devono porvenire allora mi ha fatto molto riflettere perché effettivamente finché queste donne accettano tutto questo dal loro compagno tutto questo insomma adesso non è che entro nel merito no no bisogna stabilire ruoli sin dall'inizio altrimenti si innesca un meccanismo di punto alla pressione è una bomba d'orlogeria a un certo punto scoppia la situazione non è più controllabile quindi io penso che ci siano veramente tantissime cause che che poi provocano i femminicidi provocano la violenza noi in passato abbiamo anche parlato di pedofilia abbiamo parlato a nostro modo e che è un modo un po' diverso perché noi parliamo con studiosi facciamo convegni però noi parliamo tantissimo anche con i linguaggi dell'arte perché siamo convinti che l'arte spesso arrivi lì dove la parola non arriva beh è più immediata perché è più immediata perché vedere un film vedere un'opera d'arte vedere un'immagine che ti emoziona che ti tocca che ti entra che ti fa male è molto più incisiva spesso di ascoltare un'ora che ascoltare un'ora un convegno o degli studiosi che ti raccontano tutte le cose legate a questo tema sono importanti io infatti noi abbiamo due convegni non è che omettiamo la parte di studio con persone di grande levatura ma voglio dire ma noi parliamo moltissimo anche con l'arte e soprattutto con i giovani perché noi siamo convinti che ai giovani possa passare di più questa forma artistica ad esempio noi abbiamo utilizzato la mobile art quindi iphone tablet tutto quello che è virtuale il social network perché siamo convinti che i giovani possano restare più colpiti da un'immagine vista su un grande schermo e scattata con l'iphone non ci sono filtri e non ci sono altri piuttosto che che venire ad ascoltare delle persone che parlano o sentire i loro educatori che gli raccontano certe cose ecco quindi noi parliamo con i linguaggi dell'arte io ringrazio Maria Teresa Ferrari 25 novembre maratona di eventi Madri contro la violenza Teatro Cranploi di Verona giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne grazie arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti